Solo la conoscenza reciproca può vincere la diffidenza e la paura ed è per questo che noi proseguiamo nel nostro percorso di dialogo, creando occasioni di confronto. A dirlo i giovani musulmani cremaschi che hanno organizzato un convegno sabato 6 giugno alle ore 18 presso la sala Alessandrini dal titolo provocatorio, integrazione, no grazie, convivenza pacifica. Un titolo che ha fatto discutere per il rifiuto ostentato dalla volontà di integrarsi ma, ci spiegano i giovani musulmani, studiato a tavolino per richiamare l'attenzione su un'occasione importante di confronto dove vogliono dare un contributo al dibattito in corso sulle religioni. In particolare quella musulmana e cattolica. Secondo loro è bene separare il livello civile, dove è necessario integrarsi e svolgere attività per il bene della comunità, dal livello religioso, dove nessuno può rinunciare a qualcosa di sé, può solo convivere in modo pacifico rispettando le diverse fedi. Perché l'integrazione significherebbe modificare il proprio stato, mentre la convivenza pacifica farebbe sì che allora la popolazione che vi è all'interno di un'altra popolazione non cambia i propri ideali, la propria mentalità, ma che mantenga comunque le sue ideologie, la sua cultura e cercare di convivere pacificamente. Sabato al convegno saranno presenti un prete cattolico, il direttore della Caritas di Crema, Don Francesco Gipponi, l'ex presidente dei giovani musulmani Omar Gibril ed il giovane assessore cremasco Fabio Bergamaschi, come amministratore cittadino e rappresentante della società civile. Il convegno fa parte di un percorso di conoscenza reciproca iniziato dai giovani musulmani cremaschi ad ottobre 2014, quando sono andati in piazza Garibaldi ad offrire tè e pasticcini per dialogare con i cremaschi. Prossimamente come associazione parteciperanno al progetto istituito dall'amministrazione iCare, nel quale volontari si prendono cura gratuitamente di abbellire e tenere pulite alcune parti della città. Si occuperanno di piazza Fulcheria. Partecipare a progetti comunali, progetti che fanno bene al territorio in cui ci troviamo, fa vedere che siamo veramente cremaschi. Ormai l'integrazione è già avvenuta perché siamo nati qua, non dobbiamo integrarci. È per quello che abbiamo detto, integrazione no grazie. Siamo già integrati.